Conica Pop La particolarità di questa macchina è la sua estetica, infatti è una macchina semplice ma è che è resa particolare dai suoi colori, infatti esiste in molti colori, questa rossa, poi c'è quella blu, verde, giall, argento, nera o rosa e in base anche al colore il prezzo può variare molto. Si tratta appunto di una macchina semplicissima, completamente automatica, dalla macchina si deve soluzionare soltanto gli ISO che si leggono all'interno di questo quadratino arancione, che sono semplicemente 100, 200 o 400 ASA. La macchina funziona con due batterie a stilo che devono essere inserite da qua sotto, basta girare e poi si apre. Le batterie servono per il flash anche, che si attiva con la levetta. Il diaframma è di f4 fino a f16, viene regolato in automatico e il tempo di scatto è fisso a un 125esimo di secondo, il che rende la macchina appunto estremamente semplice anche a un punto di vista costruttivo. Leva di carica in plastica e sul fondo si trova la leva di riavvolgimento. Il dorso si apre tramite questo tasto. Un'altra particolarità di questa macchina è il suo tappo, con questa forma strana, che se posizionato nel modo corretto verrà visualizzato all'interno del mirino e che ci farà capire che appunto c'è il tappo e quindi non dobbiamo scattare. Ultimamente questa macchina sta arrivando ad avere prezzi davvero molto elevati, tra i 150 e i 200 euro, il che è assolutamente ingiustificato a mio parere e quindi non ha senso collezionarla. Però talvolta le si possono trovare ai mercatini a prezzi molto convenienti, magari tra i 20 e i 30 euro, io questa l'ho pagata 25 euro a un mercatino. Talvolta si possono avere alcuni difetti, come ad esempio questa rottura della plastica, che è molto comune ma che comunque non dà nessun problema e è appena visibile. Adesso vi lascio alcune fotografie, ad esempio, che ho scattato con questa macchina. Per questo video è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Al prossimo video